Sì, andiamo avanti a togliere la futura bike, i vea ruote di Sant'Arcato, ci sono anche tanti locali presenti, come sempre l'Emilia Romagna, una delle regioni più rappresentate allo start della Novecoli. Ci sono anche i portacolori del gruppo ciclistico Falco Coppi che oggi sono in libera uscita, ma ricordiamo che oltre a firmare questo evento sono coinvolti mille addetti. E siamo pronti, siamo partiti anche con la grida bianca, ci vediamo più tardi a Cesenatito! Divertitevi! Un sorriso e un sorriso, datemi davanti e ci vediamo da Pio Novecoli! Un saluto a tutti, buon divertimento, buone pedalate, naturalmente l'appello è sempre quello, guidate con il cuore, con la passione, ma soprattutto guidate la vostra resistenza con la testa! Solti! 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 a 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 tutti.